Tutti ragazzi e ben ritorno Cane sciolto 1d3 Seguite anche il mio secondo canale Che si chiama Gatto Camer23 E iscrivetevi anche Che poi siamo Sul canale principale siamo quasi a 30 iscritti Ma sull'altro siamo quasi a 3 A 30 Siamo quasi a 10 Quindi iscrivetevi Da per tutto raga Su tutti e due i canali Nel frattempo subiamo già un gol Subito 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 Comunque quello si è congelato il pallone Proprio quando Stava in porta Quando stava attaccando lui Non lo so perché però ok No ecco il gol lo subiamo E' 2 a 0 No 2 a 1 Raga 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 No Che portiere Che portiere c'è sta porta 3 a 1 3 a 1 raga 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 Ecco il gol Lo so fatto fare Me lo so fatto fare Qui l'ho cercato Qui Qui l'ho cercato veramente Nooo Raga sta sbagliata Sta sbagliata Ok Ok raga Con calma Con calma raga Con Calma Con calma raga Con calma Con calma raga Attenzione raga Nooo Qui in 10 secondi Qua è dura Qui è duro Qui è duro Qui è duro No raga 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 Traversa Traversa Si è mangiato il gol No Vabbè è persa No no Non è persa Però no È persa sicuro Perché un pareggio Brutto 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 Raga ci vediamo Tra poco In prossima partita Raga Eccoci di nuovo Stiamo Giocando Contro Un campione Che bello Mamma mia Subito Cioè questo Sembra che Io ho visto Che era un campione Questo Credo sia Un campione Questo Sinceramente No qui ho fatto La papera Incredibile Io Ho due cloni Pensavo Secondo me I due cloni Sono Sono buoni Quando ti arriva Ti arriva Un gol Adesso Terra Qui forse Era buono Qui forse Era proprio Uno spettacolo Uno spettacolo Quindi tipo T'arriva Tipo una papera Clamorosa Sì 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 No Non l'ho sfruttato Non l'ho sfruttato Raga Raga Credo Credo sia Impossibile Cioè questo C'è la porta blindata Non so che dire Raga Cioè c'è la porta blindata Oh io uso Ma questo Spergato Follone Era da difesa Perché lo sa Raga Raga Sto Sto Perdendo Un bot No raga Sono scarsissimo Raga Sono scarsissimo 2 a 5 Teniamo L'umilazione Di meno 3 a 5 Beh 3 a 5 Non è neanche male Ah E a 3 Che brutto No 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 raga Raga Sbagliato 3 a 7 Che l'hanno Raga Eh Stavo proprio Giocando con schifo Raga Ci vediamo Nella prossima partita Raga Ci apriamo Un bel pacchetto raro Insieme Raga Uh Raga Un altro Sblocco Quell'altro Personaggio Raga Allora Cambiamo Subito Potere Ci mettiamo Questo Raga Anzi Ci mettiamo Questo Ci mettiamo Questo Raga Raga Ci cambiamo Un attimo Skin Qua è proprio Addormentato Raga Non mi ricordo Più come Di camera Ok Ok Mi sto Un attimo Confondendo Raga Mi sto Confondendo Raga Allora Un attimo Un attimo partita che facciamo finora un pareggio e una sconfitta speriamo che arrivi una vittoria perché qui serve una vittoria dobbiamo almeno finire con una vittoria nella prossima partita pure due vittorie di fine non andrebbero male gol subito subito no raga raga no qui proprio ok ok raga pallone invisibile no no si si raga pure se finisce due a uno non fa niente l'importante è che vinciamo ok bella raga raga bella bella bene 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 autocol no sii 4 a 1 no ok ok lasciamo sfilare perdiamo tempo c'è vabbè 5 a 1 raga così dai raga no no raga clamoroso no 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 raga ho sbagliato veramente mi sto facendo rimontare ok 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 io credo che finisce 7 a 3 8 a 3 raga lo stiamo umiliando lo stiamo umiliando 9 a 3 a 7 secondi stiamo un po' umiliando mi aspettavo il 10 a 3 e eccolo qui 10 a 3 è finita 10 a 3 raga prima vittoria prima vittoria prima vittoria raga prima vittoria ok raga calmi raga ci vediamo in prossima partita ultima partita ci vediamo tra poco raga raga eccoci di nuovo speriamo speriamo nel bene sì goal 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 raga goal no clono sì ma secondo me non è entrato secondo me non è entrato io credo che non che non sia proprio entrato però però ci fa valere ci fa valere oppure erano in parità quindi 2 4 a 2 raga possiamo 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 farne 2 di fila però non parliamo non parliamo presto perché comunque sono solamente 2 goal vabbè tu dici erano 3 però sono 2 ci siamo fatti comunque fa 2 goal eh goal goal l'ho salvata l'ho salvata ok 3 goal 3 goal 3 goal di distanza abbandonata la partita raga raga solamente perché abbandonato ci facciamo un'altra partita raga quindi ci vediamo tra poco raga eccoci di nuovo ci vediamo quando torriamo raga eccoci di nuovo raga eccoci 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 raga subito che dobbiamo vincere raga no 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 attenzione attenzione lungo eh questo bene 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 attraversa 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 nooo non potevo pure risparmiare forse sicuro sicuramente no 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 ragazzo devo tentare il tutto per tutto usa l'ha mangiato che cosa porta vuota si è mangiato comunque con la testa con la testa sei a tre no 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 devo deviare no gol si è finita raga è finita tre partite di fila spero che il video vi sia piaciuto di fila scettino e bella qui ciao 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 ciao